Ciao ragazzi! Uno dei tanti errori che noi occidentali abbiamo fatto con le filosofie e con le culture orientali è stato quello o di estrapolarne solo dei pezzi e pensare che quella fosse tutta la storia o quel pezzo lì prenderlo ed estremizzarlo per esempio sulla meditazione diciamo che la New Age ha sicuramente malinterpretato il concetto di trance, di rilassamento e di stato meditativo sicuramente estremizzandolo ed esasperandolo all'eccesso dimenticando che noi siamo chiamati a vivere questa esperienza terrena sul pianeta Terra per quella che è, anche per quella che è, ovvero un'esperienza materiale abbiamo un corpo fisico materiale, siamo circondati da oggetti materiali quindi dobbiamo goderne il più possibile nel rispetto di tutti e tutto ovviamente esperienza materiale che non dobbiamo poi a sua volta estremizzare quindi dobbiamo cercare di dividere equamente parte spirituale con parte materiale un antico detto orientale sintetizza benissimo tutto questo concetto ovvero prima dell'illuminazione porta l'acqua e spacca la legna dopo l'illuminazione porta l'acqua e spacca la legna Namaste Grazie 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 Grazie